Antonio Blasioli torna a sollevare i dubbi sulla procedura dell'affidamento ventennale della gestione delle naia di Alcleb Aquatico. La struttura ha riaperto da pochi giorni. Ecco cosa sostiene il consigliere regionale del PD dopo aver esaminato gli atti. La fiduzione, la garanzia provvisoria che doveva essere prestata da Alcleb Aquatico di circa 750 mila euro per la gestione ventennale viene rilasciata, udite udite, da una società di mutuo soccorso, cioè da chi si occupa di indigenti o di parenti che perdono i propri cari. Una società che non è iscritta all'IVAS, invece il disciplinare di gara richiedeva che questa società fosse espressamente iscritta all'IVAS perché si tratta di una fiduzione nei confronti di un ente pubblico come la Regione. Quindi oggi la domanda che noi facciamo a Marsiglio e la facciamo in toni dubitativi. Poteva questa società rilasciare la fiduzione? Come è stato possibile accettare una cosa del genere senza eccepire nulla? Il disciplinare dice chiaramente che la fiduzione prestata da un soggetto non legittimato a prestarla è causa di esclusione. E continua il consigliere sulle presunte irregolarità condendo il tutto con ironia. Abbiamo sempre detto che dubitavamo che le condizioni pesanti di questo bando potessero far partecipare tanti soggetti. In realtà su questo forse ci sbagliavamo perché dobbiamo riconoscere che il club acquatico, nonostante che sia un'associazione di 10.000 euro di capitale, in realtà ha avuto il piano economico finanziario asseverato, e tra i documenti di presentazione del bando, dalla maggiore esperienza presente su piazza per la partecipazione alle naiedi, e cioè dallo studio di revisione commerciale di Vincenzo Serraioco. Resta sospesa anche la questione dei dipendenti. Fino ad oggi ne sarebbero stati riassorbiti solo due. Sposiamo la richiesta naturalmente della CGL, di un tavolo con la regione Abruzzo, e poi sposiamo anche la richiesta di tantissime associazioni che chiedono spazi acqua.